Tornerà il suo antico splendore, anzi migliorerà il suo aspetto divenendo uno dei simboli della rinascita di Brescia. Questa è l'intenzione dei progettisti del nuovo ciambellone dell'EB, una volta utilizzato per ospitare le partite di basket del Brescia e da tempo in gestione alla fiera come padiglione aggiuntivo. Una struttura datata ai cui 40 anni si fanno sentire, ma che non è assolutamente da buttare via. Combina da un lato il principio del recupero, quindi del riuso di una struttura esistente, quello che è riutilizzabile come per esempio la bella struttura di copertura, una tensostruttura interessante che verrà riportata alla luce, verrà ovviamente potenziata per renderla in grado di sostenere i carichi da normativa, però nello stesso tempo quindi si concilia questo recupero, questa valorizzazione anche con un disegno progettuale innovativo e che quindi ridà splendore all'immobile mettendolo in sicurezza dal punto di vista sismico. Grazie al cambio di destinazione d'uso degli oneri finanziari che la fiera doveva al comune di Brescia il progetto è già praticamente finanziato. Degli 8 milioni di spesa la loggia metterà solamente 700 mila euro per avere una struttura moderna in grado di ospitare oltre 5 mila spettatori. Sarà una struttura flessibile, polifunzionale, sarà un palazzetto dello sport in grado di ospitare fino ad eventi di livello internazionale perché sarà una struttura di tipo gold secondo le classificazioni del CONI, più di 5 mila e 100 posti a sedere ma allo stesso tempo sarà anche una struttura che potrà ospitare concerti, eventi di carattere convenistico. Il progetto prevede addirittura un anello con una pista di atletica per ospitare allenamenti dei sempre più numerosi runner che durante l'inverno potranno trovare un posto al coperto. Resta però aperto ora il problema relativo al padiglione della fiera che tramontato il progetto del Nibiru Planet attende di conoscere il suo futuro utilizzo. Giustamente lei diceva il palazzetto, il padiglione esistente ma c'è anche una potenzialità edificatoria da parte di Immobiliare Fiera che non è ad oggi ancora stata attuata quindi la possibilità di realizzazione anche di un secondo padiglione per cui con Immobiliare Fiera inevitabilmente si dovrà dialogare per capire quale destino dare a quest'area. È chiaro che la scelta di intervenire sull'immobile dell'ex EIB ristrutturandolo e riportandolo in vita con questa funzione di palazzetto polifunzionale può costituire un'occasione di rilancio e di ridefinizione un po' di tutto quanto il contesto.